boh non so cosa fanno guarda che pericolosissimi si abbiamo già chiamato stanno arrivando ecco sentiamo arrivare i lugili perché in questo momento vedete che stanno arrivando i pompieri o che dopo la nostra segnalazione insomma stanno arrivando loro e cercheranno di entrare perché è davvero pericoloso vedete sentite questi boati non so di cosa si tratta insomma in questo momento sono intervenuti e stanno cercando di spegnere le fiamme ecco non si riesce a rintracciare il proprietario in questo momento stanno entrando speriamo che non succeda nulla di grave intanto ci sono delle macchine ferme anche sulla statale insomma ecco anche i vigili del fuoco in opera cercheranno di spegnere le fiamme non si è ancora capito ovviamente come mai se è colpa del caldo o che cosa ha incentivato a questo fiamme insomma pericolosissimo comunque speriamo che i vigili riescano a spegnere il fuoco ecco sentiamo diversi guati sentiamo vedete qualcosa si sta esplodendo in questo momento l'allarme della ditta si è ecco in questo momento si è esplodendo qualche contenitore immagino si sposti con la macchina si sono diverse persone che hanno segnalato ora mi sposto perché se arrivano i pompieri devono trovare lo squazio libero sentito in questo momento non so di cosa si tratta ma sta si sta esplodendo insomma assolutamente pericoloso